Contestualmente al ripristino della toponomastica viaria storica di Venaria Reale è stato realizzato anche l'allestimento di nove pannelli leggio che raccontano i turisti e i cittadini la città e la reggia di Venaria. Posizionati lungo la via maestra via Andrea Mensa sino in piazza Martiri della Libertà, piazza del municipio, il progetto è realizzato dall'AVTA, l'associazione venariese tutela ambiente amici di Venaria Reale insieme alla città di Venaria Reale al consorzio di valorizzazione culturale la Venaria Reale. Venerdì 5 luglio scorso la presentazione del progetto in piazza Martiri della Libertà, Venaria è salita quindi sul podio delle migliori smart city per un uso intelligente e lungimirante della smart card e refeed per offrire utili servizi al cittadino. Oggi la capitale delle smart city estende l'uso dell'intelligenza offrendo audioguide digitali distribuite sul territorio attraverso totem e smart poster. I pannelli sono posizionati in un percorso che parte da Piazza della Repubblica davanti alla reggia di Venaria e si snoda lungo la via maestra via Andrea Mensa sino in piazza Martiri della Libertà. Un progetto nel quale l'AVTA crede molto. Sentiamo l'augurio del presidente dell'associazione all'amata Venaria. Partenza per un futuro alquanto prospero per la Venaria Reale. Augurio a tutti i venariesi. Dichiara l'assessore al centro storico della città di Venaria Reale Rossana Schillaci. È un progetto di conoscenza del nostro borgo storico che attraverso l'installazione di nove pannelli turistico informativi condurranno il turista all'interno della nostra via Mensa e del nostro centro storico per far conoscere le curiosità legate alla nostra storia e alcune informazioni legate al borgo storico. È una parte che mancava all'interno della nostra città perché ormai Venaria è metaturistica, ogni anno ospita migliaia di visitatori e mancava la parte di conoscenza e di promozione del nostro territorio. Il progetto è stato reso possibile grazie al finanziamento dell'Avta e quindi ringrazio in particolar modo il presidente Gianfranco Falsoni che ha finanziato interamente il progetto. Ha visto la collaborazione di diversi soggetti tra i quali il consorzio la Venaria Reale, l'ASM, la Multiservizi che ha permesso l'installazione dei codici QR di gestire la parte sul sito web del Comune, la Venaria TV che ha realizzato un documentario che condurrà il visitatore all'interno del nostro centro storico e verrà caricato poi sul sito del Comune e Stefano Bedoni. Stefano Bedoni è un designer di Venaria, cittadino del centro storico e da qui è partito tutto questo progetto legato alla promozione del nostro territorio. È un'occasione per far conoscere, inserire la nostra città all'interno del web e quindi permettere anche da chi non è fisicamente a Venaria di conoscere le nostre curiosità e magari invogliarlo a venire a visitare la nostra città. Come utilizzarla? Ce lo racconta il designer venariese Stefano Bedoni che ha realizzato l'audioguida. L'audioguida di Venaria Reale del Borgo è un'applicazione web-based, si definisce, cioè che viene attivata sul cellulare o su qualsiasi smartphone o tablet senza l'installazione di alcuna applicazione. Praticamente tramite tre sistemi si può attivare direttamente dalla palina, cioè il QR code, l'NFC oppure digitando direttamente l'indirizzo. Viene automaticamente aperta sul dispositivo, sul browser del dispositivo, questa applicazione che si adatta automaticamente allo schermo e permette di ascoltare le parole che raccontano ognuno dei nove punti di interesse all'interno del borgo. L'audioguida è disponibile grazie al lavoro dei volontari in tre lingue, italiano, francese e inglese, sia da un punto di vista di contenuti audio che testuali. Ovviamente tutto quello che è raccontato audio è ripetuto nel testo scritto per i non udenti. Un progetto, come già indicato in precedenza, che coinvolge tutto il territorio venariese. Qual è il coinvolgimento del Consorzio di Valorizzazione Culturale, la Venaria Reale? In merito sentiamo Francesco Pernice, dirigente patrimonio e tecnico della Venaria Reale. È un progetto ottimo che abbiamo sponsorizzato con il dottor Fazzoni, che si è dimostrato un mecenate della Venaria. Ormai con Fazzoni collaboriamo da sempre. Lui vive con la Reggia e la collaborazione che ha dato anche alla città di Venaria, sia con i totem che con le insegne delle piazze e delle vie, è molto importante. Poi questi totem hanno preso spunto da altre città italiane, ma sono in chiave moderna e quindi è molto importante. Quindi si dimostra che Venaria oramai attraverso queste postazioni si può vedere in tutta Italia. Anche le musiche delle audioguide sono opera dell'amore per la città. Infatti sono state donate dal compositore Paolo Ariagno. Innanzitutto Venaria è un po' legata a tanti ricordi di quando ero piccolo, di bambino, quando venivo in visita al parco oppure nel paese con i miei genitori a festeggiare magari fine settimana. Quindi è un po' legata a dei ricordi di infanzia. In più poi c'è questa nuova Venaria di adesso, dove comunque è stato riportato alla luce tutto un passato fatto di fantasia, di tempi ormai andati, ma che comunque secondo me sono un po' nascosti in ognuno di noi. E quindi queste influenze settecentesche della reggia e tutto il contesto hanno comunque contribuito, diciamo così, a darmi qualche idea per rielaborare un po' del materiale che poi è stato utilizzato per le guide. Il segnale è che ha lasciato i diritti praticamente gratuiti all'associazione. È stata una cosa che ho fatto molto volentieri perché comunque un pochino mi sento anche io parte di questi luoghi, diciamo, proprio perché ci sono nato e ci sono vissuto. E quindi non ho avuto problemi in questo caso a cedere i diritti e anzi spero che faccia, chiedi un sostegno all'utilizzo di questa guida da parte dei turisti che verranno. Il sito di presentazione delle audioguide è consultabile all'indirizzo vrcode.info. Ulteriori informazioni sui siti del comune di Venaria nella sezione turismo di Venaria TV, dell'auta all'indirizzo reggiavenariareale.it e della Venaria Reale all'indirizzo lavenaria.it. Dulcis in fondo, ecco a voi i due motti ispirati dal tesauro ai volontari della reggia di Venaria Reale. Il primo è Venaria, Venaria, nome più caro del proprio nome. Il secondo invece è dedicato a tutti voi, carissimi ospiti. Arriverete ospiti, partirete amici, tornerete ambasciatori della venaria nel mondo.